Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast, può trovarli sul nostro profilo Instagram, OneMoreTimePodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione di ogni video. Io sono Luca e questo è OneMoreTime. Adesso le società sono aziende vere e proprie, che praticamente devono essere gestite come tali. Quindi ci vuole un bilancio serio, ci vuole un carisma per tenere insieme, siccome è un ambiente tereogeneo, lo spogliatoio, ci sono di tutte le razze, diciamo, come giocatori. Quindi ci vuole anche un certo carisma, parlare poco ma farsi capire senza parlare. E io infatti non è che frequentavo molto gli spogliatoi, però quando arrivavo io sapevano tutti che c'era qualcosa a dirimere, che probabilmente non andava. Ti ho fatto una premessa prima nel camerino, dove ti ho detto, io ho cercato molto su di te e ho trovato tutte cose inerenti a le inchieste, a Calciopoli. Ecco, io vorrei parlare di tutto tranne che di quello. Siamo perfettamente d'accordo. Nel senso che chi vuole si approfondire trova di tutto e di più, ma io vorrei parlare poi, la parentesi di Calciopoli è più una cosa emotiva che voglio capire come l'hai vissuta, ma io voglio capire chi è Luciano. Quindi partiamo dall'inizio. Ci sono. Quando nasci? In che anno? 37. 1937. Lontano. 86 anni compiuti? No, 85. 85. Esatto, non esageriamo. Dove nasci? A Monticiano, provincia di Siena. È un paesetto, 400 persone, però tutte selezionate. Ci sono stati anche dei personaggi importanti, tipo per esempio il ministro dell'interno, il dottor Pisano, l'amministratore delegato dell'Unicredito, il dottor Bruno. È un paese piccolo, però di sostanza. Che sforna talenti. Che sforna talenti, esatto. Raccontami dei tuoi genitori. Intanto nasci che sei figlio unico? No, c'è una sorella. Però che nasce dopo? Sì, otto anni dopo. Otto anni dopo nasce il 9 di luglio, io 10. Quindi sono date importanti. Che non vi dimenticate? No, assolutamente no. Allora, raccontami chi erano i tuoi genitori, che lavoro facevano, che infanzia hai vissuto? Ma sai, i miei genitori praticamente eravamo una famiglia povera, una famiglia povera che nella sostanza aveva il capofamiglia che andava al bosco praticamente al lavoro, quindi era una, diciamo che stavamo non bene ma neppure male. Non vi mancava niente. Una vita un po' monotona di paese, eccetera. Semplice, di routine. Esatto, non aveva niente né doloroso né praticamente da esultare, ecco. Era una vita di quei tempi lì, tranquilla. E io sono cresciuto in un ambiente che mi ha insegnato praticamente intanto a lavorare, e questo è importante, perché volevo aiutare i miei genitori e praticamente ringrazio Dio di avercela fatta. Perché da una vita direi buona, ma niente di particolare, è finita praticamente in una vita per i miei genitori ottima direi, perché l'ho fatto stare bene, perché era il mio desiderio e l'ho esaudito. Questa era la cosa principale. Torniamo all'inizio, che sei ancora un bambino, quindi non hai avuto modo di poi provvedere tu, ma a livello di amore, tu dici mio padre lavorava nel bosco, quindi si faceva un derettano quadrato, lavorava immagino tutto il giorno. Hanno giocato con te, ti hanno coccolato, ti dicevano che ti amavano, com'erano da quel punto di vista? Allora, il bene era manifesto, su questo non c'è dubbio, però il coccolare era una cosa diversa, anche perché mio padre diciamo che non sapeva neppure il coccolare, però mi volevano bene dell'anima, su questo non ci sono dubbi, è stessa cosa mia madre. Diciamo che ho vissuto una vita sempre accanto ai genitori, anche da grande, attenzione, e questo mi gratificava, perché io fino a quando sono vissuti loro, praticamente sono stato sempre vicino, per cui devo dire, mi hanno dato tanto, io ho cercato di ridare, non so se ci sarò riuscito appieno, però ho fatto tutto il possibile per farlo, per loro e per mia sorella Luciana. Con cui hai un bel rapporto? Ottimo, sì, sì. E quindi studi fino alla maturità? Sì. E quando cominci a lavorare, a fare cose altre rispetto allo studio? Diciamo che mi sono provato a giocare a pallone, però siccome sono più severo con me stesso che con gli altri, dopo due o tre anni che ho giocato nei dilettanti, ho capito che non potevo fare niente di particolare, però nel contempo sono andato a provare alla Juventus da ragazzino. Come giocatore? Come giocatore. Hai fatto un provino? Sì, 15 anni, 16, mi hanno scartato ovviamente, però ho intrattenuto un rapporto molto buono con i dirigenti di allora, il dottor Amerio, che praticamente mi ha portato avanti, io un giorno ebbi un'idea, smetto di giocare a pallone, siccome voglio mettere su famiglia, il pallone sicuramente secondo me non mi dava la possibilità di mettere su famiglia. Allora, vedi che c'era un concorso in ferrovia per capogestione, attenzione, dico capogestione. Perché ti davano del capostazione, ma tu… Ma c'era un motivo, perché i giornalisti, dandomi del capostazione, mi avevano soprannominato Paletta, il che pratica… E io l'ho lasciato di stare, perché era anche una cosa simpatica, se vogliamo. Comunque… Capogestione vuol dire commerciale? Commerciale, sì. Ho fatto questo concorso per 90 posti e ho studiato molto, devo dire. A che età hai fatto il concorso? 18-19? No, di più, 20. E praticamente ero animato da cose eccezionali, dico vado lì, saremmo 90 posti, saremmo 100-200 persone. Sono arrivato all'Evur, eravamo 10.000 e devo dire che mi sono un po' preoccupato, perché 90 posti con 10.000, però sono arrivato terzo, il che vuol significare che avevo fatto bene. E da lì è cambiata la vita mia. Cioè, diciamo che ho lavorato prima a Roma Termini, poi dopo sono stato trasferito a Civitavecchia. A Civitavecchia ho avuto praticamente un'idea, quella di richiamare quei dirigenti della Juventus che mi avevano provato per tentare di fare qualcosa con la Juventus. E devo dire una cosa difficilissima, mi ricordo mio cugino dal paese, quando io gli disse, dico, guarda che probabilmente lavoro con la Juventus. Lui mi disse, sì, ma la Juventus mica si confonde con te, mi disse, era un qualcosa di lontano la Juventus, specialmente in un paese, no? Sembrava una cosa irraggiungibile. Di che anni parliamo? Fini anni 50? 60. 60. Adesso poi non ti so dire con precisione. Però quando tu dici, ho intrattenuto dei rapporti, non lo volevi più fare come calcio giocato, ma come scopritore di talenti. No, no, io intrattenuto dei rapporti significa che mi sono offerto come osservatore, cioè scopritore di talenti. Aspetta che ti faccio una domanda, hai detto a 15 anni faccio il provino per la Juve e intrattengo dei buoni rapporti con il dottor Amerio e dei dirigenti, ma un ragazzino che fa un provino, come fa a conoscere un dirigente? Quel giorno sei in mezzo a mille ragazzini, sei un numero. No, è vero, però io sono stato sempre un tipo espansivo. Spiegami questa cosa che mi incuriosisce. Che voleva conoscere. Se non conosco coloro che praticamente mi hanno chiamato, devo andare io personalmente a presentarmi. E così ho fatto. Così ho fatto praticamente. E credo di aver portato avanti una relazione molto importante con l'allora direttore generale della Juventus. Che mi ha sempre... Che hai conosciuto a 15 anni? Non lo so se era 15, 17, da ragazzino. Adesso dire l'età precisa. Cioè tu ti sei buttato lì, dici piacere, mi chiamo Luciano Moggi e loro ti avranno detto ma chi è lei? E come hai fatto a rompere il ghiaccio? No, no, un momento, precisiamo. Io giocavo a pallone in una squadra di direttanti ed ero uno di quelli che sostanzialmente si facevano intravedere. Perché fisicamente c'ero abbastanza, considerando l'età, mi hanno portato a provare i propri dirigenti alla Juventus. Però io conoscevo me stesso, sapevo che praticamente non potevo dare. Allora io mi so amministrare, su questo non c'è dubbio. E quindi avevo già un qualcosa che mi faceva supporre che non sarei riuscito nella prova. La curiosità però mi ha portato a parlare con questi dirigenti e domandavo ma perché mi avete chiamato? E mi hanno spiegato che praticamente c'era stata una segnalazione, come ci sono tanti osservatori che vanno in giro. Evidentemente mi hanno visto prestante e hanno detto portiamola alla Juventus. E da lì ho cominciato a intessere, non dico un dialogo perché era troppo, perché praticamente all'inizio volevo solo capire di fronte a chi ero. Perché per me era un'immagine sacra il direttore della Juventus in quel momento. Allora ripensando bene a tutto quanto, poi ho scritto una raccomandata alla Juventus, proprio a ragionare a merio. E lui mi ha risposto, mi ha detto sì, vieni che ne parliamo. Evidentemente aveva avuto, nelle poche parole che ci siamo scambiati. Un buon feeling. Sì, un buon feeling. Cioè avevi fatto colpo, breccia, cioè avevi lasciato il segno in modo carismatico. Sotto quel profilo sono sicuro di aver lasciato un segno, sotto il profilo calcistico meno. Mi sapevi di dover compensare, ti sei giocato bene la partita. Quindi vai in ferrovia, ti prendono, vai a Civitavecchia e ti ricongiunge la Juventus, in quel caso come osservatore, come colui che ti aveva portato lì al provino e dici ma forse sono più io una figura del genere che può scoprire i talenti negli altri. Esatto, bravo. E lì poi ho avuto anche una fortuna, se vogliamo, perché ho trovato un capostazione, che veramente è toscano come me, che mi ha fatto fare tutto quello che volevo, ma non cose trascendentali che non dovessero essere fatte. Mi dava tutti i permessi che li chiedevo praticamente. Poi io avevo un'abitudine ed è un'abitudine che mi ha insegnato mio padre, di saper lavorare e faticare. L'abitudine era quella di fare, perché in ferrovia si fanno dei turni iniziali, pomeriggio 13.21, la mattina 6.13 e poi la sera 21.06. Allora io approfittavo del 21.06, cioè della notte, perché smontavo dalla notte alle 6. alle 8 salivo sul treno per Torino e praticamente stavo due giorni a Torino. Avevo il giorno libero della notte più il riposo e l'ho fatto per vent'anni questo. Credo che sia stato un sacrificio che poi mi ha pagato e pagato sicuramente. Ma quindi vuol dire che hai lavorato vent'anni con la Juventus in quel momento? Dal 60, più o meno nella vita mia, diciamo che si è portato avanti calcisticamente proprio con la Juve, perché da quel momento io ho lavorato come osservatore della Juve per vent'anni. Quando hai capito che potevi essere un osservatore? Avevi già colto in dei tuoi compagni di squadra il talento di qualcuno? Avevi già fatto dei colpi o avuto delle visioni per cui dici ma forse potrei farlo come lavoro? Ma sai perché ho avuto questa intuizione? Perché tra ragazzi, tra giovani si parla di calcio e io individuavo sempre l'argomento che praticamente portava a delle considerazioni che poi tutti quanti ammettevano, cioè che citavo dei giocatori, dicevo il perché mi interessavano, mi sarebbero interessati, dicevo le caratteristiche di questi soggetti qua, cioè mi spiegavo calcisticamente già prima di andare a fare l'osservatore, quindi era un qualcosa innato in me, da te che poi con il seguito io ho sempre ragionato con questa testa, cioè prendo un giocatore ma voglio capire come lo metto dentro la squadra, il perché, tutte le caratteristiche che ha che si assommano agli altri. Ed erano discorsi che facevo anche da ragazzino, magari era un discorso fuori luogo, mentre invece poi professionalmente è andato avanti. Esisteva un mestiere per cui potevi portare avanti. Era già un mestiere praticamente innato in me questo qui, secondo me. Quando vai alla Juve, fai l'osservatore e dov'è che andavi a reclutare? All'inizio, dimmi all'inizio. All'inizio è stata un po' un'avventura, intanto praticamente quando si va a fare questo lavoro non si va a reclutare, si va a girare. Si va a girare e ci vuole fortuna a trovare degli elementi, perché non è vero che uno abbia l'appellativo di scopritore di talenti. No, i talenti si scoprono da soli. Si tratta di girare nei campi di calcio, vedere praticamente e fare considerazioni su quello che vedi. Su questo penso che non ci siano dubbi. E io questo facevo e per vent'anni mi sono portato avanti con un criterio che è abbastanza, direi, è stato importante anche per la Juvenza, perché se vi dico i giocatori che ho portato vi rendete conto, perché io ho portato Scirea, ho portato Causio, ho portato Gentile, ce ne sono tanti. Insomma è inutile fare, addirittura ho portato un ragazzino che purtroppo adesso non c'è più, Paolo Rossi. Certo. E voi, non so se avete visto il filmato di questo ragazzino, ero alle prime armi. Attenzione, allora, vado a Torino. Prima di iniziare questa attività, prima di tutto ho voluto vedere quello che c'era di buono nei giovanili della Juventus e ho visto praticamente tutto quanto. A un certo punto il selezionatore dell'Under 21 di allora, Italacconcia, mi dice guarda che nella Cattolica di Virtus di Firenze c'è un giocatore formidabile che ha un fratello già alla Juventus. Io allora mi informo, guardo il fratello, non mi piaceva perché era lento, praticamente apatico, però bravo ragazzo, tutto quello che vuoi. E vado a vedere questo Paolino Rossi e praticamente mi aveva entusiasmato, mi aveva entusiasmato. Parlo col capo del settore giovanile, perché allora io ero poca roba, ero un principiante, parlo con il capo che era il dottor Locatelli e gli chiedo, dico senti io vorrei portare in prova un ragazzino e gli dissi l'età e Locatelli mi disse, dice ma guarda che noi proviamo a questa settimana giocatori più anziani di tre anni e io gli dissi non ti preoccupare, lo portiamo lo stesso. Infatti fu una prova eccezionale, quelle finte metteva seduti per terra gli altri. Quanti anni aveva Paolo in quel momento? 18, tant'è che io poi mi sono rivisto in un film che ha fatto la moglie di Paolino adesso, dove lui praticamente dice la mia fortuna è stata che a vedermi è venuto un grande sorriso che ero io e Paolo non mi conosceva, ma evidentemente il fratello gli aveva raccontato qualcosa di me e il dramma è venuto fuori poi quando io dovevo prendere Paolino, portarlo a Torino e rimandare a casa il fratello, lì è stato un problema abbastanza compresso perché la mamma non voleva eccetera, poi dopo alla fine mi hanno dato ragione, infatti il fratello credo che viva lavorando ed è una persona molto seria nel campo suo e Paolo purtroppo è un grande giocatore. Gli hai dovuto dire tu alla famiglia del fratello che l'avresti rimandato indietro, l'avresti tenuto Paolo, come le dici delle cose del genere per cercare di essere incisivo e di far sì che poi le persone non controbattano? Lì bisogna essere crudi. Spiegami come fa a essere crudo. Io dico guardate, secondo me questo non diventerà ma un giocatore e questo è un discorso che ho fatto a tanti, attenzione, non diventerà ma un giocatore, siccome il calcio è anche se vogliamo una fabbrica di sbandati perché ci sono persone che frequentano questo mondo all'età anche di 28, 29, 30 anni e quando poi finiscono dopo aver giocato nei direttanti o nei semi pro e non hanno un lavoro e quindi io mi preoccupavo di queste cose qui, mi preoccupavo per esempio anche di far studiare i ragazzi e queste cose mi sono capitate anche con le famiglie addirittura perché ci sono i genitori che quando hanno un ragazzo che gioca guardano subito le grandi platee, i soldi eccetera e io ho disattesso sempre queste cose, ho cercato di calmare gli animi e quando non si calmavano qualche giocatore che non studiava l'ho preso e l'ho mandato a casa, però ho visto bene anche lì perché non sono mai diventati grandi atleti, si sono barcamenati nelle categorie inferiori, allora io li tenevo molto a che ci fosse un'idea ben precisa del mondo in cui uno viveva e cioè il calcio, il calcio che è bellissimo anche da dilettante perché quando non hai famiglia, non hai nessuno, fai una bella vita tranquillo perché poi il calcio è un intrattenimento ma anche per chi ci sta perché se lo fa con quella voglia che dico io si diverte anche allenandosi e quindi sta bene anche nella vita perché fisicamente sta bene, io era questo che cercavo e quando non lo trovavo praticamente cercavo di dare il ben servito a chi praticamente non mi dava retta. Tu quindi all'inizio fai l'osservatore per le giovanili della Juventus e devi chiedere sempre il permesso a un tuo superiore se far convocare quella persona, insomma devi comunque avere un affanno. Sì però guarda, ho fatto molti salti. E volevo arrivare esattamente ai salti. Ho fatto molti salti, ho cominciato da osservatore, poi è venuto un personaggio che credo sia stato importantissimo nella vita mia a Lodi, è venuto alla Juventus, eravamo 15 osservatori sono rimasto io e non è che io ero raccomandato, evidentemente lui aveva chiesto informazioni, aveva capito che io potevo essere uno, penso, importante, da te che ho avuto un rapporto reciproco eccezionale con Italo che mi ha insegnato direi tante cose perché lui lavorava dall'ufficio e mi mandava in giro e io siccome sono uno, come ho detto prima, ripeto adesso, che va sempre a guardare quello che fa e il perché lo fa e chi glielo fa fare. Quindi ho cercato di mettere insieme queste cose e mi sono imparato anche dei segreti importanti di Italo a Lodi che ho osservato nella vita e credo che mi abbiano portato anche a fare delle cose molto, ma molto importanti. È la curiosità mia, io la chiamo curiosità, però la verità è che voglio sempre migliorarmi per dare quello che magari altri non possono dare, tant'è che io nell'attività mia calcistica ho sempre lavorato guardando quello che adesso non guardano, cioè i bilanci prima di tutto e soprattutto la qualità delle squadre dove sono andato ho vinto, per cui il problema sotto questo profilo non me lo pongo. Sotto il profilo invece è prettamente escludendo il calcio direttivo e questa è una cosa che io ho sempre tenuto a portare avanti perché vedete adesso le società sono società per azioni, sono aziende vere e proprie che praticamente devono essere gestite come tali, quindi ci vuole un bilancio serio, ci vuole un carisma per tenere insieme siccome è un ambiente ideogenio, lo spogliatoio, ci sono di tutte le razze come giocatori, quindi ci vuole anche un certo carisma, parlare poco ma farsi capire senza parlare. Io infatti non è che frequentavo molto gli spogliatoi, però quando arrivavo io sapevano tutti che c'era qualcosa di rimere che probabilmente non andava. Questo l'hai cominciato a fare un po' di anni dopo, quando avevi un ruolo e un'autorevolezza. Chiaro, ma tieni presente che io anche da scopritore di talenti se vogliamo dire così, poi ho fatto il salto, sono diventato capo del settore giovanile, poi capo degli osservatori, quindi... Sempre la Juventus. Dopo quanti anni hai avuto il salto di gradino a essere l'unico osservatore e poi capo degli osservatori? Nel giro di dieci anni. Tu hai detto l'ho fatto per vent'anni perché un tempo si poteva andare in pensione dopo vent'anni di lavoro, cioè tu con le ferrovie sei arrivato fino in fondo? No, no, no. Hai smesso tu a un certo punto? Assolutamente, io quando venne praticamente fuori il problema che non si poteva andare via dagli uffici se non garantiti. Mi sembra nel 1981, se non io a quel punto lì ho dato le dimissioni dalla ferrovia ma l'ho date perché io non avevo molta fiducia nel calcio, a dire la verità, nel calcio inteso come professionale e professionistico, quindi ho cercato prima di dare le dimissioni, ho cercato di mettermi una garanzia e devo dire che questa garanzia l'ho trovata andando via dalla Juventus perché io adesso non mi chiedere l'anno perché non mi ricordo, però sono andato via giovane dalla Juventus perché avevo un'idea in testa, dove sei nato non diventi mai una persona importante perché sei troppo abituale. Io proprio andando a fronte di questa cosa, mettendo avanti la persona mia su un concetto diverso da quello del calcio e quello della persona fisica, ho cercato praticamente di andare da altre parti ed è venuto fuori un giorno che la Roma di Anzalone ha chiesto le mie prestazioni come direttore sportivo, è lì che sono nato direttore sportivo. Quindi gli anni, se avevi 20-22 quando facevi questa cosa l'hai fatta per 20 anni, avevi 40-42 anni, quindi più o meno quella è l'età quando sei andata alla Roma, giusto? Forse un po' meno, ma però più o meno quella cosa sì. Ma tu per 20 anni facevi ferrovie e calcio perché il calcio non guadagnavi abbastanza per poter vivere solo di quello e mollare le ferrovie? No, perché non ero sicuro di me stesso. Ok, era solo una questione di certezza. Io volevo la certezza di poter vivere con una famiglia, di poter vivere nel futuro praticamente e dare qualcosa ai figli. Il calcio era per me una cosa in più che se veniva fuori ed era la mia passione, ma non è che sperassi di diventare il dirigente della Juventus. Io credevo praticamente di poter guadagnare e di poter dare qualcosa alla società che mi pagava, ma non è che potessi vivere di quella remunera, era una cosa fuori posto. Quindi vai alla Roma dopo 20 anni e diventi dirigente? No, divento direttore sportivo. Anzalone praticamente ha avuto tanta fiducia in me che mi fece diventare subito direttore sportivo e da lì praticamente è nato il Boggi che praticamente tutti conoscete con un'attività che credo, salvo il primo anno, perché il primo anno di direttore sportivo ho avuto, diciamo, non uno shock, però mi sono prestato più ad esaminare me stesso in quella nuova carica che gli altri e ho avuto sensazioni un po' particolari che poi mi hanno portato a capire l'essenza del mestiere. Nella Roma eravamo praticamente in quei tempi lì diciamo una società povera, Anzalone non aveva tante risorse per cui dovevo prendere i giocatori praticamente e vendere i giocatori, cioè prendere poco e vendere apparecchio e lì ho imparato questo mestiere. Però il primo anno mi sono trovato talmente in difficoltà che sostanzialmente mi ha fatto pensare giorno e notte per come dovevo organizzarmi a Roma e devo dire che il secondo anno è stato per me l'anno del battesimo perché ho messo in pratica quello che avevo pensato, cioè di sciogliere le riserve su alcuni giocatori, vendere bene alcuni, vincolarne altri, praticamente per portare poi alla società alla fine qualcosa di produttivo. E devo dire che in questo contesto ho fatto un'operazione iniziale che è stata eccezionale. Adesso lo posso dire ma riconosco perché poi mi hanno riconosciuto da tutti quanti, perché ho avuto un'idea. Bruno Conti, che era diciamo il campione del mondo, è stato poi alla fine. Sì, ma è una figura molto iconica, soprattutto se ne parliamo adesso. Bruno Conti praticamente era un giocatore di livello giovanile, ma eccezionale, un piccoletto che sgusciava da tutte le parti. C'era il Genova che praticamente voleva questo Bruno Conti e io incosciamente ho pensato adesso se li do Bruno Conti, però mi devo far dare qualcuno. Darglielo in prestito o venderglielo? No, no, in prestito, in prestito. Ma siccome loro lo volevano terribilmente, allora io ho detto adesso mi devo far dare qualcuno e ho pensato, Pruzzo, il centroavanti del Genova. Allora, ho fatto un'operazione di questo tipo, io vi do, messo per iscritto, vi do in prestito Bruno Conti, alla fine dell'anno me lo riprendo, però voi mi date un'opzione su Pruzzo perché posso portare Pruzzo a Roma. Ho fatto firmare a Pruzzo praticamente l'eventuale accettazione a Roma e alla fine di quel campionato che Pruzzo era diventato l'uomo mercato, lo voleva il Mila, tant'è che i giornalisti milanesi e in Argentina che c'erano i campionati del mondo, fecero già le feste perché il Mila aveva preso Pruzzo, invece l'avevo già preso io. Ecco, questa qui è un'operazione che mi ha dato proprio una spinta di capire come si doveva fare per portare avanti... Ti ha insegnato un altro segreto. Mi ha insegnato, io siccome sono uno che riesce ad apprendere, ho capito che dovevo fare praticamente qualcosa di diverso da quello che pensavo, cioè mettere in campo la fantasia, ecco, in poche parole. Quindi tu hai dato un prestito a un tuo grande giocatore e in cambio hai preso un prestito a uno loro ma con l'opzione di poterlo comprare. No, no, ho dato in prestito Bruno Conti, mi sono fatto fare un'opzione per prendere l'anno dopo Pruzzo definitivo alla Roma e poi si è ripreso Conti. E poi mi sono ripreso anche Conti, tant'è che tutti criticavano perché Bruno Conti era andato al Genova e poi ci sono trovati Pruzzo e Bruno Conti che erano due giocatori che hanno portato avanti la Roma in vero senso della parola. Come si scopre un talento? Cosa guardi tu in un ragazzo per capire se ha quel DNA? Allora, qui è veramente una cosa abbastanza difficile anche da spiegare. Però tu hai in memoria praticamente tutto quello che hai nella squadra tua, cioè qui nella Roma, nella Fattispecie, nella Juventus, eccetera. Però non devi soffermarti su quelle caratteristiche lì perché per migliorare bisogna trovare i giocatori migliori. Allora l'osservatore attento deve guardare. Prima di tutto deve parlare col giocatore per sentire e per capire l'intelligenza del ragazzo perché l'intelligenza praticamente, siccome i piedi sono comandati dalla testa, ci vuole praticamente anche chi sa parlare bene, sa dialogare, eccetera, perché denotano qualcosa in più. Dopodiché poi chiaramente lì devi vedere il campo, quello che ti dice. Cioè le caratteristiche del giocatore sono tali che se ci sono, per esempio Paolo Rossi oppure Causio, sono giocatori che mi hanno impressionato. Ecco per esempio Causio, tanto per fare un esempio, l'ho provato a Rimini, 50 giocatori di cui praticamente era una selezione proprio del luogo per non spendere tanti soldi di spese per portare i giocatori. C'era questo ragazzino, Causio, che veniva dalla San Benedettese, allenatore Eliani, l'abbiamo messo senza sapere chi era perché non sapevamo praticamente chi fosse Causio come giocatore e questo qua ha fatto un primo tempo talmente eccezionale che io ho detto al capo del settore Giovanni togliamolo perché questo è così bravo che se c'è qualcuno a vedere le prove lo può portare in un'altra società. Sapete che è successo? Che Causio ha litigato col proprio allenatore, con Eliani, perché gli ha detto tu mi hai portato da tante parti, mi hanno sempre scartato, sono stato un mese a Torino, mi hanno rimandato indietro, adesso questi mi fanno giocare solo un tempo. E sono dovuto intervenire io dicendo guarda tu non preoccuparti, tu adesso vieni a Torino ma vieni nell'ambiente bianconero. E così è nato Causio. Ma tu questi giocatori li vedi delle movenze, delle movenze, della testa alta che tengono quando hanno il pallone tra piedi e queste sono le cose principali di uno che può giocare a pallone perché il piede è comandato ma lo comanda la testa. Se tu guardi il campo, la visione del campo e vedi il giocatore che sa dare la palla a destra e a sinistra vuol dire che è un giocatore. Poi dopo, chiaramente, bisogna vedere se ti remporta bene, se è un attaccante, se è un difensore, se colpisce bene di testa, eccetera. Sono queste le caratteristiche che bisogna vedere e io diciamo che più o meno l'ho intravista. Tu dici che i piedi sono collegati alla testa e vuoi vedere se la persona è dotata cerebralmente. Cosa fai per provocarlo quando gli parli, per fargli le domande giuste, per vedere se ha le palle? Che tipo di domande gli fai? No, quello lì, il discorso degli attributi è diverso. Sì, però anche questo conta. Poi se no, mazza, è determinante. Come lo metti alla prova quando ci parli? No, ma quello lo vedi durante la partita. Il problema della determinazione, il problema degli attributi li vedi quando gioca perché, insomma, uno che è pratico di questo mestiere e capisce lontano miglio, sia uno che guarda la partita oppure se la gioca e se la gioca, lui stesso è in favore dei compagni. Il problema di fondo è vedere dove manda la palla al piede e questa è la cosa principale. Io, per esempio, mi sono trovato con un grande giocatore, con Del Piero, da ragazzino, praticamente, e lui, ecco, intanto un soggetto che ragionava già come uno grande, ma questo non è neppure determinante gli effetti del gioco, però già ti dà la sensazione di uno che ragiona e quando ragiona è maturo, è maturo anche nel fare un'attività. E Del Piero era maturo per fare l'attività del calcio, tant'è che la gente probabilmente non l'ha mai saputo, ma Del Piero era il primo centrocampista della squadra mia e il primo attaccante, perché i piedi mandavano sempre il pallone all'uomo libero per tirare nella porta avversaria e praticamente quando si trattava di tirare in porta lui era un maestro. Mi ricordo sempre quando a Tokyo abbiamo vinto il titolo di campione del mondo di club, ha fatto un gol contro il River Plate da spettacolo e quella era la sicurezza nei piedi che è data dalla testa. Chi è il più forte di tutti che hai visto in allenamento dove dici era incredibile? Il più forte di tutti è Maradona, su questo non c'è dubbio. Da questo momento in poi, quindi sei direttore sportivo, dici non l'ho mai fatto, il primo anno ti ambienti, il tuo battesimo, il secondo anno e cominci a fare anche dei colpi di mercato interessanti. Quanto tempo rimani alla Roma? A Roma cinque anni. Cinque anni poi sono passato... Allora, dalla Lazio per un... Bravo, sono passato dalla Lazio ma per un anno perché poi ho dato le dimissioni perché lì era un po' disorganizzata la Lazio in quel tempo con Umberto Lenzini presidente che purtroppo era un, diciamo un uomo eccezionale però non aveva economicamente parlando le caratteristiche per fare il presidente e poi era in dissidio con i fratelli quindi ho preferito lasciare la Lazio e tieni presente che sono arrivato alla Lazio perché io sono un uomo coraggioso e assieme a Ilario Castagnere e mi dico, guardi, devo dire che ho fatto le condolianze purtroppo alla famiglia ieri perché purtroppo Ilario se n'è andato eravamo arrivati due giovanotti alla Lazio ed eravamo in Serie A Ilario Castagnere era il migliore allenatore praticamente del momento e io avevo subito accaparrato Ilario Castagnere e poi mi ero portato appresso la visione della nazionale olandese che in quei tempi praticamente era una nazionale eccezionale e avevo preso il migliore attaccante Van de Kerkhoff che però purtroppo, come saprete tutti la Lazio aveva avuto dei problemi e fu retrocessa in Serie B e quindi dovemmo fare un campionato sia Ilario che io in Serie B e Van de Kerkhoff non ci vuole stare perché lui si sentiva un po' fuori luogo un campione come lui a partecipare a un campionato di Serie B in Italia e quindi lui se ne andò però nonostante tutto devo dire che anche questa con la Lazio è stata sì una bella esperienza ma un'esperienza che mi ha portato a capire come le società di calcio devono essere gestite non avendo problematiche economiche come aveva la Lazio quindi cresce la tua esperienza e poi vai a Torino vado a Torino dopo la Lazio dopo la Lazio ma io poi ho una caratteristica vedi sono andato al Napoli dopo il Torino no no ma per dirti sono andato al Napoli sono tornato al Napoli perché evidentemente ho lavorato bene e mi hanno richiamato sono andato al Torino e poi sono ritornato al Torino sono andato alla Juve e poi sono ritornato alla Juve quindi praticamente dove sono andato probabilmente ho lasciato un buon ricordo ho lasciato un buon ricordo su questo non c'è dubbio però ho accresciuto l'esperienza per esempio andando a Torino io credo che visto anche l'amore che hanno i tifosi del Torino per me penso di aver lasciato un buon ricordo perché eravamo addirittura siamo arrivati secondi in campionato e abbiamo rischiato di vincerlo quando il Verona ha vinto lo scudetto interdito esatto e abbiamo rischiato anche di vincere la Coppa UEFA pensare che siamo andati ad Asterdam contro l'Aix dei migliori tempi abbiamo fatto 0-0 con tre pali addirittura l'ultima traversa l'abbiamo fatto al novantesimo portiere battuto e purtroppo avevamo pareggiato con l'Aix in casa 2-2 e abbiamo perso la Coppa è il momento in cui Mondoni ha alzato la sedia su ed era una cosa che sostanzialmente mi riempieva di gioia perché avere senza la presidenza che potesse laggire denaro per comprare i giocatori avevamo attrezzato una squadra che tutto sommato era una squadra in quegli anni lì si era lasciata dietro a Juve dei campioni il Torino praticamente era la squadra di Torino che emergeva nell'ambiente del calcio quindi erano soddisfazioni queste qui che io mi sono preso ed era un godimento devo dire sotto il profilo lavorativo perché se il lavoro ti dà soddisfazione è anche un qualcosa che svolge senza tanta fatica io sono abituato anche con i giocatori ho sempre guardato in faccia a una realtà se vi divertite giocando vuol dire che sapete giocare e i risultati ci sono se faticate ditemelo perché vi mando via a proposito di questo allenatori hai parlato di Mondonico hai fatto tanti nomi e tu quando parlavi di calcio da ragazzino con gli amici capivi di essere particolarmente dotato perché capivi cosa mancava come si incastravano i tasselli per fare un puzzle perfetto quanto influivi sulla formazione? quanto dicevi all'allenatore in che maniera far giocare la squadra? no sono due cose ben diverse allora come una conseguenza di una visione di quegli impulsi che vuoi che succedano? sì però fare la squadra l'ho sempre fatta io nel senso comporla comprando i giocatori non si comporla ma perché il concetto mio era diverso non per disistima anche perché poi ho avuto pochi allenatori e proprio amici miei veri perché ho creato proprio una simbiosi quando ho preso qualsiasi allenatore ho detto che la squadra la facevo io perché io sapevo il portafoglio della società di calcio cosa che non sa un allenatore e sapendo il portafoglio considerando che un allenatore oggi ci sta domani non c'è più mentre la società resta ho sempre cercato di portare avanti economicamente tu me lo dici perché vuol dire chi dobbiamo valorizzare in quel momento quindi quel giocatore deve giocare perché lo devo valorizzare a prescindere no no ma anche come acquisti e vendite io sapevo perfettamente fino a dove potevo arrivare e fino a dove dovevo quali erano i tuoi limiti i limiti precisi economici della società di calcio e questo praticamente non lo può fare un allenatore perché l'allenatore vuole sempre giocatori buoni praticamente per fare maggiori risultati però se la società non ha possibilità queste cose qui è meglio non farle perché altrimenti si va falliti ed è quello che si rimprovera adesso ai dirigenti attuali perché prima erano società sportive ora sono aziende vere e proprie e sono tutte S.P.A. ed è per questo che a vedere i bilanci rosso come ci sono adesso nella maggior parte delle squadre di calcio viene anche da pensare che al momento attuale dirigenti importanti che curino queste cose ci sono pochi come selezionavi gli allenatori? nel senso oltre a ovviamente come dire alla loro visione di calcio il modo in cui facevano giocare le squadre qual era la caratteristica principale? cioè tu hai detto una cosa importante la caratteristica dell'allenatore allora ci sono delle società anche adesso anzi forse più adesso di prima che prendono l'allenatore in base al nome è la cosa più sbagliata se tu praticamente metti un allenatore in una squadra di calcio che praticamente è portata a fare la partita e l'allenatore è portato invece ad aspettare l'avversario e giocare di rimessa è l'errore più grosso quindi tu devi valutare prima di tutto il gruppo e le caratteristiche che ha una volta valutato il gruppo e le caratteristiche del gruppo che sono portate a fare la partita tu prendi un allenatore un po' più spregiudicato che possa andare a fare la partita se invece gioca di rimessa e devi prendere un allenatore che attende l'avversario e poi riparte e invece adesso questi concetti qui sono la maggior parte disattesi ed è per questo che le società di calcio non hanno i rendimenti che praticamente dovrebbero avere perché non è sufficiente prendere l'allenatore di nome faccio un esempio tipico e cito un giocatore Lukaku Lukaku con Antonio Conte è stato uno dei crack dell'Inter nel senso positivo? positivo nel senso che è stato un fenomeno? è un fenomeno anche perché aveva delle caratteristiche ben precise di diciamo uomo che partiva a prestanza fisica eccetera faceva 30 metri con la palla e poi tirava in porta era in un contesto direi eccezionale perché aveva Achimi dietro la squadra giocava di rimessa per cui partiva Achimi dava la palla a Lukaku e Lukaku con la prestanza fisica che aveva spaccava le montagne se Lukaku come adesso lo metti a fare la partita praticamente non è più quello di Antonio Conte ecco io guardavo queste caratteristiche queste alchimie perché se messi insieme bene possono dare dei risultati e l'Inter vinse il campionato con Lukaku che era veramente un attaccante importante sono quei giocatori che cambiano veste se vengono utilizzati in maniera diversa Lukaku ha più forza fisica per andare in aree di rigore avversaria a farsi largo anche a colpire di testa se lo metti in una squadra che deve fare il gioco praticamente può avere delle difficoltà perché gli resta più difficile dialogare con i compagni e quindi ne soffre anche l'interesse della squadra ti faccio una domanda per ignoranza ma curiosità quindi Lukaku l'Inter vince lo Scudetto lo vende a 115 milioni al Chelsea il Chelsea lo mette praticamente fuori squadra se lo prende in prestito l'Inter quindi al Chelsea non gioca quasi nulla tu credi che un allenatore che non sa sfruttare le caratteristiche di un giocatore possa psicologicamente rovinare la carriera di un giocatore nel senso dargli quell'insicurezza dove lui non si sente più perché un attaccante che segna è pieno di adrenalina sarà sempre più forte perché crede in sé stesso questo anno e mezzo che ha passato Lukaku dopo il momento glorioso di cui stai parlando tu ad oggi credi che possa giocare sulla psiche dell'uomo o no? allora Lukaku era l'uomo ideale è un esempio ho preso solo il tuo nome esatto Lukaku era un uomo eccezionale nelle mani di Antonio Conte che è uno che è un motivatore oltre che allenatore e l'ha voluto perché Antonio è un altro di quelli che fa le squadre con concetto sapendo che mi serve un difensore con caratteristiche un attaccante con caratteristiche eccetera questo è Antonio Conte e i risultati poi parlano in favore di questo per lui Lukaku praticamente è stato un giocatore messo nelle mani di un gran dirigente che è Beppe Marotta che praticamente l'ha amministrato in una maniera migliore assieme a Antonio Conte e poi l'ha venduto anche in una maniera migliore perché ha preso tantissimi soldi e l'Inter aveva bisogno di queste operazioni è andato a giocare in una maniera diversa ed è la dimostrazione di quello che dico io non emerge praticamente come emergeva nell'Inter di Conte giocando di rimessa con Hakimi e l'Inter se l'ha ripreso credo che abbia fatto anche un affare a riprenderlo in prestito certo però il rendimento praticamente non è più quello di prima ma non è che il mancato rendimento influisce sulla psiche del giocatore perché attenzione Lukaku è uno con gli attributi ed è una persona non seria di più un professionista vero assolutamente sì soltanto non è le caratteristiche per improntare una sua attività su squadre che cominciano a giocare cioè vanno ad attaccare l'avversario questo è Lukaku ecco per esempio se prendiamo un giocatore al contrario Lukaku Simen del Napoli ecco lui è proprio adatto ad attaccare praticamente le difese avversarie mentre a difendere probabilmente è anche meno bravo di Lukaku ma se tu hai una squadra che vuol vincere il campionato devi prendere uno come Simen che praticamente fa il gol e attacca l'avversario senza avere problemi particolari è un funambolico questo Lukaku non è però devo dire che è sicuramente un giocatore importante nell'economia di una squadra perché fa parte del gruppo e Lukaku sa fare parte c'è un uomo di spogliatoio un leader sa fare parte del gruppo no perché le persone serie si vedono lontano un miglio anche come si allenano e lui è tale poi nell'Inter attualmente ci sono dei dirigenti veramente importanti certo che portano avanti una squadra anche nelle dimensioni economiche e critiche in cui sono stati diciamo anzi mi sembrano molto bravi e molto attenti da quel punto di vista eccezionari ti faccio una domanda sulla piazza degli allenatori quindi oggi li vediamo tutti Jürgen Klopp tutti quelli che ci sono chi è il più forte in assoluto secondo te secondo la tua visione di calcio questa qui è una bella domanda io per esempio vedevo molto bene i club adesso ecco qui si dimostra praticamente il qualcosa che nel calcio può sfuggire ma non deve sfuggire Klopp è troppo che sta a Liverpool infatti quest'anno l'hanno già più complicato ma sai perché è troppo che sta a Liverpool è troppo che ha confidenza con gli stessi giocatori è troppo che gli stessi giocatori vincono tanto e adesso hanno perso un po' di quel qualcosa che è la fiamma che infiamma i giocatori per andare in campo e cercare di vincere lo stesso Salah non è più quello di prima e questo fruisce anche nell'animo dell'allenatore io credo che quando un allenatore è stato due o tre anni in una squadra di calcio a meno che a meno che non abbia una dirigenza che sa effettivamente lavorare sui soggetti compreso l'allenatore deve cambiare visto che abbiamo parlato di Inter io sono milanista però sono molto sportivo quindi amo il calcio bello torniamo a Mourinho quindi Mourinho due anni all'Inter secondo anno vince tutto se ne va per fare una nuova esperienza che dice meglio di così non posso fare è la cosa giusta ha fatto la cosa giusta poi si trattava di andare in una grande squadra come Real Madrid quindi vuole dire non è che si dove ha avuto la sfortuna di avere un Guardiola con un Barcellona incredibile dall'altra parte esatto vogliamo dirla tutta io ho imparato da un allenatore che credo che ce ne siano pochi di allenatori che ragionano a quella maniera e sai da chi ho imparato? da Lidl io sono arrivato a Roma da ragazzino insomma non da ragazzino ma alle prime armi a fare il direttore sportivo e Lidl mi ha sempre detto prima di tutto mi ha detto ma tu vuoi campare bene a Roma si deve fare il morto non ho capito bene perché mi diceva questo ma sicuramente di parlare di parlare poco eri presente che in quel periodo lì un giornalista di Roma ha fatto praticamente un articolo sulla Roma dove diceva che Anzalone anche se Lidl mi dovesse vincere il campionato lo caccia e poi questo giornalista il giorno dopo è venuto al campo io ero presente parla col mister gli fa diceva mister ma ha sentito il presidente suo cosa ha detto lo caccia anche se vince il campionato Lidl me lo guarda poi gli fa ah sì è finita l'intervista e da lì ho imparato praticamente come si fa a parlare poco soprattutto e a fare bene infatti invece la tua più grande scoperta come allenatore per esempio Berlusconi noi dicevamo tanti prendono degli allenatori di nome lui ha fatto tante giocate non scontate prendendo degli allenatori non di nome adesso vedi Palladino nel suo Monza piuttosto che non ha sempre preso dei nomi blasonati momento momento Palladino lasciatemelo stare che è stato un giocatore mio quindi lo conosco personalmente ed è uno che vale su questo penso che è un giovane che vale molto e guarda caso dei miei giocatori se fai un esame abbastanza accurato trovi quelli che hanno giocato con me che sono tra migliori allenatori De Champs che addirittura è diventato campione del mondo e quest'anno è arrivato secondo in finale ma non solo De Champs Zidane Antonio Conte Gasperini pensate che vincito ai migliori allenatori e sono cresciuti tutti con me questi qui quindi qualcosa di buono l'abbiamo insegnato alla Juventus su questo non c'è dubbio tu me lo stai dicendo perché non c'è solo l'intuito di aver scelto la persona giusta ma aver impartito la giusta disciplina come impartisci la disciplina come fai capire come si sta il mondo nelle squadre dove lavoravi tu allora io tanto per fare un esempio tipico nei 12 anni che ho passato alla Juventus ho cambiato tre allenatori l'Inter ne ha cambiati 25 addirittura 5 in un'unica stagione no e secondo me questo qui era il modo per non andare bene allora tu scegli un allenatore devi sapere quello che scegli e praticamente il dialogo che può avere con questo e soprattutto devi capire come gioca per immetterlo nel gruppo bene e poi lo devi difendere lo devi difendere perché l'allenatore ha bisogno della difesa della società di fronte allo spogliatoio perché è un uomo solo contro 25 persone non tutti giocano e quelli che non giocano praticamente possono dissentire e si creano gruppi tant'è che io appena arrivato alla Juventus ho fatto un anno e poi ho smartito un po' di persone perché volevo rinnovare quando sei tornato intendi? Sì, quando sono tornato alla Juventus e dalla Roma perché io ho fatto Napoli-Roma e poi sono ritornato alla Juve e abbiamo vinto con questo sistema qui anche la Coppa dei Campioni nel 1996 quindi voglio dire la ricerca è abbastanza accurata per l'allenatore poi devi avere delle persone che oltretutto conosci bene e sei anche amico se vogliamo cioè gli puoi fare delle confidenze io per esempio con l'IPI è un simbolo capello un altro simbolo Carlo Ancellotti Carlo Ancellotti praticamente era un po' diverso da questi due perché doveva essere aiutato in modo particolare e se vi dico che Carlo Ancellotti deve a me tanta parte della sua gloria e sono contento di averlo fatto perché è un bravo ragazzo voi pensate che io stavo a Roma da ragazzino lui giocava nel Palma l'ho preso e l'ho portato alla Roma su insistenza di Lidl devo dire l'ho portato alla Roma poi volevo andare al Mila l'ho preso e l'ho mandato al Mila poi ho cominciato a fare l'allenatore a Parma da Parma l'ho preso e l'ho portato a fare l'allenatore alla Juventus e devo dire che Carlo ha fatto dei buoni campionati perché una volta ha fatto 72 una volta 73 con praticamente due punti quindi erano un ottimo campionato e poi dopo si è trovato con il disastro del Curi voi non so se ricordate la tempesta su quel campo lì e quindi ha perso anche meritatamente eppure io ho continuato a sostenerlo ed era importante sostenerlo perché era giovane e quindi aveva bisogno di aiuto poi dopo quando abbiamo deciso di riprendere l'IPI io ho fatto un contratto a Carlo Ancellotti ho fatto un contratto di un anno perché non lo volevo mi dispiaceva farlo stare senza contratto e poi ero sicuro di poterlo collocare tant'è che ho trovato praticamente una squadra turca il Galatasaray che lo poteva prendere e gli ho fissato un appuntamento a Parma e qui è la fortuna del soggetto perché ci vuole anche fortuna quando gira mentre Carlo Ancellotti andava a Parma in macchina mi ha telefonato Berlusconi e Berlusconi mi ha detto ci senti ma tu di Ancellotti che ne dici io gli ho detto un buon allenatore gli ho spiegato il perché con noi poteva non andare bene e sai che mi ha detto Silvio Berlusconi perché io gli ho detto guarda perché però sta andando a Parma a filmare con una squadra turca chiamalo fargli girare la macchina e farlo venire a Milano da me che ne faccio il contratto io così ho fatto e Carlo Ancellotti si è trovato nel giro buono che praticamente poi l'ha portato ad essere quello che è perché secondo me è umanamente eccezionale guarda ti stavo dicendo non volevo interromperti da milanista io gli sono molto grato a Carlo Ancellotti anche alle telefonate a questo punto che Berlusconi ti fece perché oltre a essere un grandissimo allenatore era una persona molto umana io credo che non ci sia di meglio è proprio un bravo ragazzo da soddisfazione a poterla aiutare io magari l'ho fatto nel diciamo perché mi è venuto non spontaneo perché gli eventi praticamente mi hanno portato anche la telefonata di Silvio Berlusconi che praticamente ha determinato poi il ruolo di Carlo nelle grandi squadre io per esempio adesso che sono buon amico di Florentino Perez devo dire che praticamente lo stima in una maniera è difficile essere stimati da Florentino Perez perché probabilmente è uno dei pochi presidenti che capisce di calcio e devo dirvi si può evidenziare da tante cose la prima per esempio è che lui ancora prima di prendere l'allenatore cioè di prendere Carlo Ancellotti ha preso il preparatore e il preparatore Pintus che io ho avuto nei minori della Juventus ecco l'ha preso due mesi prima di prendere l'allenatore di solito queste cose qui si fanno con l'allenatore però lui che è un presidente che conosce il calcio a menadito e vi dico anche di più c'è stato un momento in cui Carlo Ancellotti era traballante non adesso ma nella precedente tu dici sempre Real Madrid nella precedente edizione sono andato a vedere la partita che determinava la Coppa dei Campioni e la partita era con l'Atletico Madrid vado in Spagna la prima persona ovviamente che incontro il Florentino gli parlo dico ma Carlo come va benissimo benissimo mi disse adesso gli ho detto che se non vincere la Coppa dei Campioni io caccio via io sono rimasto un po' sbalordito perché non scherza mai attenzione quando parla allora ho voluto fare una verifica vado in albergo della squadra parlo con Carlo del più o del meno dico ma col presidente come va bene bene mi ha detto che se non vico mi caccio via è stato sincero e lì psicologicamente devi essere forte perché se subisci quella pressione di giochi male ma tu pensa la buona stella di Carlo a due minuti dalla fine perdevo 1-0 ma io me la ricordo molto bene la partita ha vinto 2-1 lo ricordo molto bene quindi questo qui ha anche aiutato dalla buona stella e credo che Carlo sono a meriti assolutamente quindi la tua miglior scoperta come allenatore? sai ho avuto Lippi e Capello e lui diciamo quello è il podio non vado fuori da questo anche perché ho sempre avuto una sensazione tutta mia particolare discendermi un amico e uno che sapesse gestire il personale allora mentre Lippi era più diciamo guascone eccetera però ci stava ben assieme Capello era uno che aiutava la società e gestiva il personale in una maniera migliore io intendo personale spogliatoio e questo per me era la cosa principale poi in campo erano quelli che erano quindi migliori allenatori per cui non avevano bisogno di consigli particolari però io avevo un modo di fare un po' mio particolare il giovedì per esempio io facevo tutti i giovedì la riunione con l'allenatore solo voi due neanche con l'allenatore in seconda solo tu e lui solo con l'allenatore il modo di consigliarsi quando c'è stima reciproca praticamente si parla e si esaminano bene le situazioni bene io non ho mai fatto un discorso tu fai giocare questo assolutamente no perché non era il mestiere mio però dicevo secondo me farei così e poi la domenica si faceva a quella maniera il venerdì per esempio facevo la riunione di tutti i medici sociali i massaggiatori i preparatori eccetera perché è una caratteristica un po' particolare e diversa questa qui dei soggetti perché il medico sociale quando i giocatori vengono dall'infortunio li vuole perfetti in campo l'allenatore certe volte anche se sono al 70% li vuole in campo ugualmente il preparatore segue l'allenatore il massaggiatore idemi allora io per sapere com'era la situazione li facevo venire tutti assieme si litigavano tra loro e poi facevo quello che volevo cioè quello che dovevo più che volevo perché ritenevo più opportuno prendendo il discorso che faceva uno che faceva un altro perché la prevenzione all'infortunio che è sempre stata una cosa la quale io ho ottenuto perché prevenire l'infortunio vuol significare seguire i giocatori nell'allenamento e vedere la camminata dei giocatori quella è una cosa importantissima perché l'affaticamento poi porta disastri ci sono infortuni muscolari a non finire considerando anche la variabilità del tempo il caldo il freddo eccetera e io lì ho sempre tenuto praticamente a visionare e a sentire le persone incaricate di questo argomento qui e devo dire che ho sempre avuto una certa dose di fortuna perché con me gli infortuni sono capitati poco muscolari ed è proprio in funzione di questo che facevo riunioni con i personaggi ma non per decidere d'idea mia no per capire come potevo decidere in relazione a quello che sentivo dire sono stato sempre un tipo curioso di sentire le idee degli altri ti ricordi un discorso che ha cambiato la partita dove si è andato nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo perché la squadra non stava girando nel modo giusto e si è riuscito a switchare il loro cervello e sono tornati come undici agguerriti no questo non mi ha fatto perché significa andare negli spogliatoi praticamente tra il primo e il secondo tempo e sminuire la figura dell'allenatore invece io ho sempre cercato di dare all'allenatore il potere ti cito un esempio tipico ho avuto anche qualche giocatore che è andato fuori dall'usuale da quello che volevo io non mi va di fare il nome neppure però l'allenatore era a capello questo giocatore è venuto in sede da me e mi ha detto che voleva il contratto riformato voleva più soldi voleva aumentare l'anni di contratto e soprattutto mi ha detto mare dell'allenatore io l'ho lasciato parlare poi il giorno dopo sono andato negli spogliatoi ho chiamato la squadra a capello e ho detto quello che mi aveva detto lui da quel giorno questo qui praticamente non aveva avuto più voce in capitolo con noi quindi bisogna proteggere l'allenatore perché se non lo proteggi lo lasci in mano a un gruppo di 25 persone purtroppo ci sono quelli che giocano e quelli no e diventa un obiettivo e io queste cose qui ho sempre tenuto a metterle in una certa maniera e devo dire che ho avuto collaborazione Parliamo un secondo dei procuratori nel senso che volevo capire un po' il loro ruolo oggi si vedono tantissimi giocatori che non fanno più monetizzare le squadre che li hanno comprati ma arrivano a fine contratto e poi cambiano squadra questo è un male del calcio attuale attenzione è un male sicuramente del calcio attuale anche perché praticamente diciamo che ci sono procuratori che sanno lavorare bene e procuratori invece che lavorano per un solo scopo allora io per esempio quando ho avuto modo di conoscere il primo Raiola che tutti chiamavano il pizzaiolo io ho capito che Raiola mi diceva delle idee ben precise di giocatori importanti e ho capito anche che poteva essere una persona con il quale io potevo fare anche delle grandi squadre e così ho fatto perché io ho utilizzato molto Raiola la Raiola ho preso quando ho dato via Zidane ho preso Nedved e pensa che quando ho preso Nedved non lo sapeva né il giocatore né Raiola perché io l'ho preso prima di vendere Zidane perché se l'avessi preso dopo magari me lo facevano pagare il doppio allora io ho cercato di evitare e in silenzio ho comprato Pavel Nedved dalla Lazio dopo di che ho venduto Zidane e quando si è trattato di parlare con Pavel Nedved e con Minoraio io la prima cosa ho parlato col giocatore ho parlato col giocatore e lui sai che mi ha detto da soli o davanti al giocatore al giocatore perché io voglio parlare con l'interessato prima che col procuratore allora parlo col giocatore e dico ma se ti portassi alla Juventus tu che diresti e pensa che l'avevo già comprato no no io non vengo perché ho praticamente alloggiato il campo da golf gioco lì mi diverto mi chiuso proprio la porta io non ho insistito e tieni presente se vuoi il contratto in mano poi dopo quando lui è andato a Praga a casa sua che c'aveva praticamente mi sembra la nazionale di mezzo io l'ho richiamato gli ho detto senti un po' Pavel ma adesso tu mi hai detto del campo di golf eccetera ma tu non so se conosci la mandria ma la mandria ci giocano pure le linee al golf è proprio un campo di golf quindi non vedo perché ma poi almeno dammi una soddisfazione io ti vengo a cercare e tu mi dici no senza almeno vieni a vedere la mandria se poi la cosa non ti piace mi dici non mi piace io ti mando perché non sa più niente di nessuno ti mando un aereo privato a Praga ti prende non sa niente di nessuno vieni a vedere la mandria e poi ti riporta a casa tua e lui mi disse sì allora io avvisai tutte le televisioni tutti i giorni così non poteva più fare un passo indietro no no lui si trovò alla scaletta dell'aereo con 30 persone tra televisioni e giornalisti tutti a Roma cominciarono a chiamarlo il traditore per cui dovete venire per forze di cose quindi ci sono dei momenti anche bisogna utilizzare queste cose qua e devo dire di aver fatto la fortuna di un ragazzo su questo non c'è dubbio perché venire alla Juventus con tutta la carriera che ho fatto fuori e dentro cioè da giocatore poi da dirigente penso che praticamente gli ho fatto un favore non indifferente quindi ci sono i giocatori che poi ti lasciano il segno ecco lui è uno di quelli è uno di quelli che praticamente ho faticato più del previsto a portare la Juventus ma perché era proprio voglioso di restare a Roma nella capitale io lo potevo anche capire attenzione però poi dopo ho venuto a Torino penso che ci sia stato molto bene parlavi di Minoraio la poi Minoraio l'ha utilizzato ecco allora è tanto per dirti come prendevo i giocatori la Formula 1 a Monte Carlo perché mi sembra che erano i primi di aprile e roba del genere adesso il giorno preciso mi stai per parlare del mio grande mito calcistico che è Zlatan Ibrahimovic sì praticamente ho chiamato Minoraio e gli ho detto dico guarda vediamoci a Nizza all'aeroporto di Nizza perché ero a Napoli ho preso l'aereo e sono andato a Nizza e ho fatto venire Maxwell ho fatto venire Ibrahimovic ed Emerson tanto per dirti come si utilizzano anche i procuratori Maxwell non mi piaceva non mi piaceva e non l'ho preso Ibrahimovic praticamente l'ho preso già a quei tempi lì quindi gli ho già fatto fare un preliminare prima della Formula 1 quindi al mese di aprile e poi ho mandato Minoraio a litigare con la Roma per Emerson perché non era il procuratore di Emerson però lui mi ha sostituito non mi andava di fare guerra con la Roma e lui mi ha sostituito nella parte tant'è che poi sono riuscito a prendere anche Emerson quando è arrivato Capello a giugno sai che mi ha detto Capello mi ha detto però mi raccomando vediamo un pochino di rinforzarci con Emerson per esempio della Roma e con Ibrahimovic io ho già presi questo è il modo di utilizzare anche i procuratori perché ci sono quelli bravi attenzione e Minoraio era uno di quelli proprio bravi e sapete chi era un'anima importante di Mino era Raffaella Pimenta Raffaella Pimenta è una brasiliana che ha lavorato sempre con Mino ed è una che è stata l'artefice anche della cessione di delitte al Baile Monaco per 70 milioni quindi vuole dire era una di quelle che ci sapesse fare una donna che sa tante lingue è tosta tostissima anzi e credo che sia una che possa portare avanti il problema di Mino nel migliore dei modi a proposito di Mino nel senso è sempre stato descritto è sempre stato visto come un uomo granitico tutto ad un pezzo uno che arrivava dalla strada che si è fatto da solo a carattere molto forte lo chiamavano pizzaiolo e in effetti lui aveva un ristorante di pizza d'asta ci sono andato io quindi vorrei dire ma io per esempio lui l'ho conosciuto bene perché quando ho deciso di prendere Ibrahimovic io siccome quando prendi uno straniero devi stare attento se prendi uno che è mentalmente portato a fare il giocatore o se prendi uno che ti dà fastidi per dichiarazioni e per gossip eccetera e io per tre mesi prima di fare un discorso con Ibrahimovic sono andato ad Asterdame ti ricordi che lui aveva fatto un gol di tacco contro la nazionale italiana in Portogallo bene tutti dicevano che non sapeva tirare in porta io tre mesi e un giorno alla settimana sono andato ad Asterdame a vedere allenamento e parlare con lui e devo dirti che ho riscontrato un uomo eccezionale un uomo eccezionale tutto dedito alla famiglia voi infatti non avete mai sentito gossip da parte di Ibrahimovic un gran giocatore che sapeva portare avanti la squadra da solo cito un esempio tipico viene al Mila e nel Mila c'è un amico mio Nocerino e a Nocerino che mi chiede consigli su come stare vicino a Ibrahimovic e gli dico guarda tu devi fare una cosa devi stare in mezzo all'area di rigore lui va sulle la fascia si porta dietro quattro giocatori avversari gli salta tutti e poi mette la palla al centro Nocerino fece 11 gol l'ha fatto andare in doppia cifra con questo sistema qua quindi è un ragazzo direi eccezionale che io ho riscontrato anche in altra maniera mentre tutti dicevano che era un giocogliere era anche un giocogliere Ibrahimovic ma soprattutto uno che da 30 metri faceva col portiere con i tiri che faceva di testa era insuperabile quindi era proprio il contrario di quello che dicevano tant'è che io quando ho portato Ibrahimovic mi hanno un po' contestato la cosa questo va solo a tirare di tacco invece tiravo anche di punta rispetto a Mino ti volevo fare una domanda perché purtroppo oggi lui non c'è più e quindi questa immagine molto forte di lui ma c'era una parte umana? ma sai è umano non ti so dire con precisione però sicuramente era una persona giusta su questo tutto molto serio nel suo lavoro tutto deito al lavoro vedi quando i giocatori vanno a cercare i procuratori e non è il contrario vuol dire che sanno lavorare e Mino è arrivato a un certo punto che veniva cercato dai giocatori e questo sta testimoniare che era l'uomo giusto un uomo serio un uomo che praticamente dava tutto perché il giocatore avesse la massima e la migliore collocazione io su questo posso dirlo con tutta tranquillità il resto non conosco la vita privata quindi non posso dire niente di particolare però a me è sembrata sempre una persona seria un aneddoto che era uscito sia nel film di Ibra che nel suo libro era che un giorno a Monte Carlo vi incontrate era la prima volta credo che tu vedevi il giocatore quindi lui e Mino sono in ritardo c'è traffico scendono dalla macchina arrivano correndo tutti sudati e tu giustamente li fai capire gli fai notare che sono arrivati un'ora in ritardo e lui ti disse Mino non ti preoccupare di queste formalità sono qua per il mio giocatore parliamo di questo in modo abbastanza autoritario è vero? è un romanzo è un romanzo ok a me certe cose se mi avessi detto una cosa in genere lo rimandavi indietro lo rimandavo indietro non sentivo per me ok non c'è nessuna sfumatura di quella roba ma addirittura ho visto un filmato in cui in cui Mino dice che Mogi non voleva prendere Ibrahimo è proprio esattamente il contrario quindi i filmati i romanzi lasciano il tempo che trovano sostanze che io con Mino ho fatto anche delle belle squadre anzi direi che ho fatto una delle migliori Juventus di quel tempo per cui il rapporto era e se mi avesse fatto un discorso iniziale del genere finiva prima di cominciare il rapporto faccio una domanda su Ibrahimo nel senso da milanista ho visto un grande switch mentale una grande sicurezza nello spogliatoio in tutti i giocatori io lo ritengo un grande professionista nell'allenamento in partita molto serio molto preciso quanto ha influito secondo te nello scudetto dell'anno scorso c'è in questa nuova mentalità del Milan? secondo me molto secondo me molto a parte il fatto senza togliere il merito all'allenatore ovviamente no no ma se tu senti parlare Pioli se tu senti parlare Paolino Maldini vuole dire hanno tutti dei concetti un po' particolari ma sempre uguali cioè quelli di un soggetto che anche non giocando sa imprimere e sa dare ai compagni quel qualcosa che altri non sanno dare cioè lui è uno che diciamo vuol vincere sa vincere e mettergli attributi per vincere e vuole che gli altri che giocano con lui siano nella stessa maniera e misura e io credo che ci sia riuscito soprattutto anche non giocando attenzione perché ma non giocando quanti gol ha segnato lui è uno dei migliori cannonieri del Milan ha nessun numero di partite giocate giocando poco esatto non è che ha demeritato però ha impresso il carattere il carattere indomito di chi è un condottiero e Ibra è un condottiero vero e poi è anche una persona squisita io quando sento dire che Ibra Imovici è rompiballe mi viene la voglia di dire che non conoscono il soggetto lui ha un pregio che secondo me potrebbe essere anche un difetto ma ha un pregio se ti stima tu con una caramella gli fa fare il giro d'Italia se non ti stima praticamente ma te lo dice e io credo che avere a che fare con questo per esempio con Ibra quando ha fatto i 40 anni ci ha chiamato tutti a Milano poi ha postato praticamente una foto mia di Galliani di Mino Raiola e di Pobba e ci ha messo la storia di Stoar praticamente per dimostrare che è un soggetto prima di tutto riconoscente ma poi soprattutto è uno che sa di dover diciamo avere il dovere di mettere in evidenza l'attività di altri che hanno costruito il bene suo in poche parole io questo guardate di fronte a un personaggio come Ibrahimo dice tanto di cappello io ho sempre avuto un feeling eccezionale e l'avrò sempre perché a me piacciono le persone vere quelle che hanno anche il coraggio di dire in faccia quello che pensano è mentre qualcuno diceva borro le persone che ti dicono dietro quello che vorrebbero dire davanti non ce la fanno torniamo a un grande del calcio che è Maradona in Napoli ma una parentesi tu arrivi quando loro hanno già vinto il primo scudetto giusto? arrivi l'anno successivo sì arrivo nella tempesta in cui praticamente era implicato l'allenatore Bianchi che era mal visto dalla squadra e Blovolano manda via io arrivo in quel momento lì praticamente e devo dirimere un problema abbastanza grosso perché era il primo anno che era Napoli mi trovo con il presidente Ferlaino che mi dice bisogna mandare via l'allenatore e io ero di parere esattamente contrario anche perché se mando via l'allenatore in un gruppo di giocatori del genere ne metto un altro che è nella stessa e precisa dimensione di questo qua cioè inizialmente ha un gruppo di giocatori che vogliono fare i sindacalisti e che praticamente vogliono fare quello che vogliono e l'allenatore può anche non concederli allora secondo me era da mandar via i giocatori e devo dire che ero andato a Napoli con un preconcetto quello che Ferlaino mi dicevano faceva tutto lui ed è una cosa che praticamente ho capito già all'inizio quando io ho detto no io vorrei mandare via i giocatori lui mi ha detto no mandiamo via l'allenatore sai che ho detto io a Ferlaino dico va bene mandiamo via l'allenatore tu fai una dichiarazione dici io Ferlaino presidente voglio mandare via l'allenatore perché è successo delle cose che non vanno bene se fai questo per me va bene però se non lo fai io sparisco infatti io per 4-5 giorni mi sono ecclissato è venuto a ricercarmi Ferlaino e mi ha detto allora fai tu quello che vuoi hai tenuto l'allenatore e io ho tenuto l'allenatore ho mandato via alcuni giocatori ma addirittura il capitano Bruscolotti voglio dire non potevo mandar via Maradona perché Maradona avrebbe mandato via tutti con il potere che aveva calcistico e carismatico però voglio dire tutto quello che c'era che a me sembrava non andasse l'ho fatto fuori l'ho fatto fuori e guarda caso il Napoli ha ringiovanito la squadra ha vinto il campionato ha vinto la Coppa UEFA ha vinto la Supercoppa ha vinto la Coppa Italia praticamente cose che adesso auguro al pubblico di Napoli di gioire con questa squadra che hanno perché credo credo che veramente sia una squadra fuori dalla norma meravigliosa ma anche in Champions secondo me il Napoli è una squadra un po' particolare che fa la partita perché si diverte a fare la partita perché ha due grandi giocatori tipo Lisen e Cosimene e Kvara e Kvara che è un nome complicato sì infatti lo abbreviamo così sì però ha un centrocampista che si chiama Anguissa che è quello l'uomo il forte che va nei contrasti sa dare la palla ha praticamente l'uomo migliore che sta davanti alla difesa si chiama Lobocca il quale è veramente la forza una delle forze del Napoli e il Napoli con questo sistema qui avendo anche sulle fasce Politano e Lozano con questo sistema e con questa squadra può fare due partite una può attaccare l'avversario e fare il gioco personale se poi l'avversario ha la forza di attaccare il Napoli si difende andando in contropiede con dei velocisti eccezionali e con un funeambolico come Osimène il che praticamente la fa diventare una squadra fortissima io penso che questo Napoli qui possa andare anche in finale di Coppa dei Campioni magari o con Real Madrid o con il Manchester City ti chiedo di Maradona raccontami qualcosa sia di umano se ce l'hai da raccontarmi ma che Napoli era con Maradona chi era Maradona in quel momento? beh guarda Maradona era un qualcosa di eccezionale per chi non lo conosce era Maradona malandrino per chi lo conosce un uomo eccezionale che purtroppo era in un modo e in un altro quindi aveva doppia personalità e la doppia personalità praticamente spesso e volentieri aveva il sopravvento su quella vera però io ho visto fare a Maradona delle cose eccezionali con della gente che aveva bisogno lui si è prostrato proprio era veramente un uomo generoso generoso ma soprattutto voleva bene al prossimo suo e i giocatori praticamente li volevano bene perché li faceva vincere la partita ma perché proprio lui si attirava quindi il pubblico è inutile dire quello che faceva per lui si perdeva la testa ma non solo i napoletani tutti noi io per esempio ho avuto uno scontro abbastanza grave con Maradona che diciamo io ho lasciato il Napoli per colpa di Maradona perché quando siamo andati a giocare i quarti di finale mi sembra Mosca di Coppa dei Campioni o gli ottavi adesso non mi ricordo bene Maradona aveva detto che partecipava la partita era il mercoledì noi partiamo il lunedì partiamo il lunedì e io arrivo in aeroporto Maradona non c'era e la cosa è andata a casa sua ho detto praticamente a Coppola che era il manager e a Claudia che era la moglie perché lui dormiva era chiuso in camera ho detto guardate io sono sicuro che voi arrivate domani perché la partita è mercoledì se arrivate domani sera Maradona non gioca poi sono andato era atteso da tutti i giornalisti ho dovuto dire che chi non parte con noi non gioca Maradona è arrivato il martedì è arrivato con un aereo privato con l'aereo privato è arrivato il martedì sera è arrivato praticamente in albergo l'ho fatto mangiare con la squadra poi ho convocato la squadra è arrivato lo stesso il martedì perché ha detto comunque mi farà giocare lo stesso anche se avevi avvisato a casa che non l'avresti fatto lui voleva giocare ma poi queste cose qui non le faccio pensa che sia l'allenatore che le debba fare comunque io l'ho fatto mangiare poi ho chiamato Ferlaino ho chiamato tutta la squadra e a Maradona ho detto se vai via tu succede il finimondo a Napoli se vado via io non se ne accorge nessuno per cui io ho detto a Ferlaino tu dall'inizio del prossimo anno cominci a trovarti un direttore perché io non ci sto più con Diego poi è venuto il giorno della partita è venuto il giorno della partita praticamente nevicava era un freddo terribile e io ho pensato se lo mando in tribuna ci sono le poltrone riscaldate e non va bene lo metto in panchina infatti ho detto all'allenatore di metterlo in panchina si è patito una freddata ha giocato all'ultimi cinque minuti perché non segnavamo però non siamo riusciti poi neppure a segnare dopodiché io quello che avevo detto l'ho mantenuto lui non ha giocato io i primi di aprile ho dato le dimissioni dal Napoli e sono venuto via però poi dopo l'ha aiutato l'ho aiutato dopo e l'ho portato anche negli Emirati a fare l'allenatore perché io avevo un debole per Maradona tant'è che poverino quando veniva in Italia la prima telefonata la faceva a me e probabilmente aveva capito che se avesse dato retta a me non succedeva niente di particolare l'ho portato negli Emirati gli ho fatto fare l'allenatore poi anche lì però mancava negli allenamenti la mattina per esempio non andava mai all'allenamento ed era l'allenatore allora decisero l'ultimo anno di fargli fare il promotore del calcio negli Emirati e poi dopo è successo però devo dirvi che io ho voluto bene a Maradona perché era un ragazzo che si faceva voler bene e diciamo che quasi quasi era un dovere volerli bene per guidarlo anche se era difficile guidarlo su questo non c'è dubbio ritorni alla Juve vincete tanto sono delle annate incredibili e a un certo punto arriva Calciopoli raccontami il giorno in cui vieni a conoscenza dei fatti come ti senti come affronti quel momento un momento a conoscenza dei fatti sono venuto quando mi sono fatto interrogare il momento in cui praticamente mi è stato dato una comunicazione del genere veramente mi sono sentito un qualcosa dentro anche perché l'attività mia era fondata sul fare le squadre di calcio e farle giocare bene e non c'era bisogno di comprare arbitri eccetera perché voi non so se avete visto quando praticamente si è trattato di vincere il titolo mondiale a Berlino nel 2006 della Juvenza c'erano 5 giocatori l'Ipi allenatore e esposito massaggiatore e nell'altra squadra che competeva con noi c'era Turan Didier de Champs Trezeghe voglio dire erano 4 giocatori che sostanzialmente davano e sembrava una partita addirittura come a Villar Perosa durante l'estate tra i 26 e i 26 B invece la finale di Coppa del Mondo voglio dire quindi detto questo siccome io ho fede su questo non c'è dubbio mi ha aiutato molto questa cosa e poi devo dirti che mi è successo un episodio un po' particolare durante la mia attività alla Juventus ho ricevuto a un certo punto non ti so dire neppure i tempi una lettera da Palermo in questa lettera da Palermo che io ho letto io non ho dato tanta importanza perché era una donna e c'erano anche quelle che cercavano pubblicità eccetera comunque non ho dato importanza a questa lettera poi a un certo punto dopo due o tre anni ho pensato ma voglio conoscere questa persona perché mi diceva che mi doveva dire una cosa importantissima e l'ho chiamata come ti è venuta la voglia di conoscere una delle tantissime persone che ti scrivevano cosa avevi carpito no niente di particolare solo che mi diceva che aveva da dirmi una cosa importantissima che riguardava la fede o non lo sapevi che cosa riguardasse io non sapevo che riguardasse anche perché questa qui praticamente poi ho appurato che non sapeva neppure chi ero la chiesta ai figli e arrivo da lei una vecchietta di un'ottantina d'anni poverina che è venuta anche non dico con le stampelle ma ci mancava poco e mi ha detto dice senta che cosa le volevo dire io praticamente qualche tempo fa ho sognato un greggio di pecore in questo greggio di pecore c'era un pastore e a un certo punto mi è apparsa la figura di padre Pio e che mi ha detto dice vedi quello è moggi dili chi li voglia bene e questa ti devo dire è una cosa che mi ha talmente emozionato e mi ha dato così tanta famiglia forza che tu non hai pure l'idea è vero che tu la prima settimana in cui succede il fatto hai pensato al suicidio e ho pensato di tutto ho pensato di tutto anche perché sai ti trovi in un momento in cui a me mi davano del lato quindi si resta male di fronte magari a della gente che tutto potrebbe dire tranne quello però ho passato sicuramente i primi tempi molto molto brutti però la fede mi ha aiutato tanto scopri la fede in quel momento o già perché so che hai fatto un seminario tu quando eri molto più giovane giusto a dire la verità mi avevano portato a studiare in seminario ma non mi è piaciuto sono andato via e stavo praticamente in un collegio alla saguio cuore sicuramente però voglio dire era un mestiere che non mi piaceva quello lì infatti cosa succede quando hai delle reminiscenze cioè io molto molto cattolico molto cattolico non sicuramente bigotto ma molto cattolico io infatti vado a messa la domenica vado sempre poi soprattutto mi piace andare quando non c'è nessuno in chiesa cioè vuoi pregare il signore in santa pace senza distrazione di persone intorno a te e non ho mai chiesto io favori per me personali assolutamente no e non farò mai e a me quell'aria mistica senza nessuno vicino mi dà un qualcosa che praticamente altre cose non mi danno per cui certe volte anzi spesso me ne vado in chiesa quando non c'è nessuno e mi godo dieci minuti praticamente di quell'aria che è pura almeno così mi sembra a me e questo mi ha aiutato molto nel superare quello che praticamente poi si è sovvettito da solo perché tutti hanno capito vedi tu non vuoi entrare in calciopoli e non vuole entrarci neppure io perché è un ambiente che non mi piace però quando io faccio un'intervista al report e dico che è stata una cosa assurda questo processo perché il calcio va guardato a 360 gradi non con una società sola e mi risponde poi a questa intervista il capo del pool dei procuratori di Napoli quindi era quello che praticamente comandava tutti quanti i PM e mi dice che Moggi aveva ragione dovevamo andare a 360 gradi e avremmo trovato Inter Napoli gli stessi Napoli che avevano fatto effettivamente uno di questi sicuramente l'Inter aveva fatto dei reati su questo non c'è dubbio manifestati dalle intercettazioni e mi dà ragione a quel punto lì devo dire che è un processo che lascia il tempo che trova e tant'è che adesso la Corte Europea ha accettato il ricorso adesso vediamo quello che succede e adesso sai cosa ho fatto guarda io ti do questa cosetta non mi dare responsabilità no 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 nessuno guarda tu la puoi anche con il fiocchetto con il fiocchetto allora questa qua siccome se io parlo di calciopoli posso anche far intendere alle persone che parlo di calciopoli però mi invento delle cose questa chiavetta raccoglie tutte le intercettazioni che dimostrano il contrario di quello che hanno voluto fare allora se io praticamente non avesse avuto fede potevo anche non andare a combattere una battaglia come ho combattuto però siccome io quando non ho fatto niente e sono sicuro del fatto mio non ho paura di niente di nessuno perché per me è la paura la più brutta consigliera e io ho sempre utilizzato i miei giorni senza allungarli ho fatto proprio uso del tempo e con questo concetto qui sono andato avanti e praticamente ho dimostrato a tutti quanti che la realtà è ben altra che Moggi aveva fatto delle cose importanti per il calcio italiano non è che io ero il promotore di un calcio importante per l'Italia però certamente ho fatto qualcosa perché questo diventasse e i campionati del mondo del 2006 penso che lo stiano a dimostrare questo invece ti sta a dimostrare che Moggi non aveva nessuna colpa di quella che praticamente eri stata un regalo non si rifiuta quindi lo accetto no ma poi guarda c'è anche il fiocchetto c'è il fiocchetto e lo terrò commentare non lo aprirò perché è lì dentro no perché non voglio entrare in quel mondo lì io volevo conoscere la persona ma me lo terrò in ricordo di questo momento ma poi sai cosa te lo tieni in ricordo senza aprirlo e poi un giorno quando la corte europea stabilirà quello che deve stabilire che ha già diciamo accettato quando ci sarà il merito di questo tu puoi aprire questo e vedrai che troverai la collocazione di quello che ho detto nel modo migliore prima dell'ultima domanda ti chiedo una cosa perché non abbiamo parlato dell'amore tu hai un figlio unico due ah ok vedi non lo sapevo neanche due maschi due ok io so di uno che lavora nel mondo del cancio mi danno soddisfazione tutte e due uno lavora nel mondo del calcio Alessandro e ha fatto anche una manifestazione in favore dell'Ucraina eh al Galli a Milano e hanno partecipato tutte le squadre di calcio compresa Lega Federazione a tutti quanti ed è stata una cosa elogiata da tutti quanti l'altro è diventato uno dei pochi manager dell'Unicredito che attualmente praticamente eh ha come sottovisione da Napoli a tutta la Sicilia quindi sono contento di quello che hanno fatto i miei figli e spero che i miei nipoti facciano altrettanto perché ho due nipoti con uno e due nipoti con l'altro quando ci sono stati gli anni brutti i tuoi figli hanno cambiato opinione o ti sono stati ancora più vicini sono stati vicini perché mi conoscono non guarda l'unica cosa che diciamo mi ha rattristato è stato quando per esempio è morta mia madre questa morendo ha detto ci sono i carabinieri è tutto dire hai sentito di averle dato un dispiacere senza volerlo no senza volerlo forse hanno dato più gli altri a noi che io a lei vado con l'ultima domanda ti voglio chiedere se hai paura della morte no no non ho mai avuto paura della morte ripeto la paura per me è la brutta consigliera quindi non ho alcun timore anzi cerco di fare nel migliore dei modi sempre per evitare di pensarci allora te ne faccio un'ultimissima di domanda qual è per te il senso della vita il senso della vita è complesso il senso della vita è comportarsi bene il senso della vita è lavorare per se stesso per chi ti sta vicino e soprattutto essere una persona seria io sono sempre stato serio e ho sempre dato il massimo di me stesso per la causa per cui ero portato a lavorare e soprattutto per la mia famiglia perché io per esempio tanto per dirti come sono fatto io durante la mia attività calcistica che è durata tanto tempo non ho mai fatto le ferie senza i miei genitori e le ho fatte sempre al paese mio a Monticiano perché diciamo che non mandava di andare in giro per il mondo ma mi godevo più i miei genitori questo e mia sorella Luciana e tutti qua oltre a famiglia mia naturalmente questo eramo oggi grazie Luciano ci mancherà grazie grazie a tutti grazie a tutti